Prego, senatore La Pietra. Grazie, Presidenti, membri del Governo, colleghi senatori. Questo provvedimento sicuramente entra a far parte di tutti quegli atti necessari per consentire una migliore gestione delle pratiche per la tutela ambientale e introduce alcuni elementi importanti per il contrasto alla lotta degli incendi. Penso, per esempio, all'introduzione di maggiori risorse per l'acquisto di mezzi necessari per lo spegnimento degli incendi. Penso all'inasprimento delle pene per chi provoca gli incendi e introduce anche, fondamentalmente, un piano nazionale di prevenzione che entra come elemento coordinatore nella legislazione fra le competenze Stato-Regioni. Osservando più attentamente il provvedimento, però, vogliamo segnalare come, a nostro avviso, si rischi di non facilitare, ma anzi di complicare, per alcuni versi, la stesura di questo piano. Penso, per esempio, alla composizione del tavolo tecnico, alla elevata presenza di rappresentanti dei vari ministeri, che rischia una non facile mediazione fra tutte le posizioni. Occorre, quindi, velocizzare le capacità di azione del comitato tecnico, da una parte, motormente pensando a una riduzione della stessa composizione, ma, dall'altra, occorre coinvolgere le associazioni agricole, perlomeno quelle più rappresentative a livello nazionale. E, nel contempo, occorre fare attenzione ad assicurare un efficace coordinamento fra il piano nazionale antincendio e i piani, ad esempio, di pianificazione forestali o delle filiere forestali regionali, facendo poi attenzione anche alle modalità di emanazione del piano nazionale, che, come sappiamo, è legato a un decreto del Presidente del Consiglio, dei ministri, chiaramente, da adottare, come dicevo poc'anzi, a un tavolo con troppi ministeri che ne potrebbero, appunto, ritardare l'adozione. Ma, soprattutto, vorrei sottolineare come si parli di prevenzione, 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 però, in termini, quando andiamo a analizzare il provvedimento, sicuramente non del tutto adeguati e non del tutto risolutivi. Cosa voglio dire? Vedete, colleghi, la prevenzione, come sappiamo, è una cosa diversa dal controllo e dal poi l'intervento. E se, da una parte, la Costituzione, per esempio, faccio degli esempi di linee tagliafuoco, la maggiore manutenzione delle strade forestali, rurali, per fare un esempio, possono rappresentare, sì, una piccola parte della prevenzione, ma non può essere sufficiente. La vera prevenzione, colleghi, si fa ribaltando un paradigma fino a oggi introdotto, lo dico con chiarezza, da un'idologia ambientalista che vuole una gestione della natura completamente autogestita dalla stessa. Quella stessa ideologia che si è formata nei salotti buoni di quella lobby ambientalista, dico lobby con precisione, che ama, sì, passeggiare sui sentieri, ma poco o niente sa di cosa significa vivere o lavorare in montagna o nei boschi, per cui niente si deve fare e che vuole lasciare tutto semplicemente alla gestione della natura. Non è così, colleghi, dobbiamo riflettere su questo aspetto. La prevenzione si fa soprattutto permettendo l'intervento dell'uomo, come hanno fatto per secoli i nostri avi, chi ci ha preceduto. La gestione del bosco deve partire dal suo uso consapevole e sostenibile. Ad esempio, sembra banale quello che sto per dirvi, ma il bosco va tagliato, va pulito, non può essere lasciato a se stesso. E i vincoli regionali, comunali, spesso impediscono una corretta gestione del bosco, senza pensare poi a tutti i vincoli della sovrintendenza che spesso blocca tutto a prescindere. Questo, vedete, sta provocando un abbandono sempre più importante da parte delle aziende che praticano la selvicoltura. I nostri boscaioli sono sempre di più strangolati da una burocrazia asfissiante che non permette loro di svolgere un lavoro già di per sé duro. Occorre quindi rendere il loro lavoro più semplice e permettere loro di sopravvivere. Il loro lavoro fa prevenzione. Non scordiamoci questo. Il loro lavoro è prevenzione. Così come prevenzione viene fatta dalle imprese agricole di coltivazione e di allevamento. Se noi non permettiamo a queste aziende di sopravvivere, evidenzo ancora questo termine, sopravvivere, ci saranno sempre più terreni abbandonati, ci saranno sempre più zone incolte e sempre più zone soggette ad incendi. Quindi, ritornando al ragionamento, al paradigma da invertire, significa proprio questo, permettere ai nostri boscaioli, agricoltori, allevatori di svolgere il loro lavoro, non solo in quanto tale, ma proprio come primi guardiani ambientali del territorio, soprattutto in territori difficili come quelli montani e boschivi. Tutto questo, in questo provvedimento, purtroppo, manca. Mancano quei riferimenti precisi che possono individuare, soprattutto in questi soggetti produttivi, i primi attori della prevenzione. A tutto ciò vorrei anche fare un'ulteriore riflessione e aggiungere anche come ci sia un atteggiamento sbagliato sulla gestione della fauna selvatica, che si basa anche questo su una visione integralista dell'ambiente. Non è possibile imporre il divieto di caccia dei comuni limitrofi al territorio dove si è sviluppato l'incendio in maniera netta e incondizionata, come si voleva introdurre nel dispositivo di legge. Se da una parte possiamo anche capire il divieto delle zone coinvolte nell'incendio, non si capisce perché si deve interrompere la gestione della fauna selvatica in altri territori, andando di fatto a aumentarne la presenza spesso nociva per l'agricoltura e per l'ambiente stesso. Anche questo denota quindi un atteggiamento sbagliato. In sostanza, colleghi, quello che voglio dire, pur apprezzando un provvedimento che introduce, come dicevo all'inizio del mio intervento, elementi sicuramente positivi, le risorse, l'inaspiramento delle pene e maggiore coordinamento, manca comunque una visione della gestione complessiva ambientale che tenga presente l'apporto positivo che solo l'attività dell'uomo può dare a territori complessi, appunto, come dicevo, soprattutto territori montani e boschivi nel suo complesso. Il problema, Presidente, concludo, è proprio questo. Nonostante le belle parole con cui il centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle, si riempie la bocca dell'ambiente per l'ambientalismo, non c'è in realtà una visione complessiva. Al di là degli slogan, manca una pianificazione vera e integrata della gestione dell'ambiente e dell'uomo, che riguarda, che ricordo a tutti noi, fa parte anche questo del sistema ambientale. Molto probabilmente anche questa volta abbiamo perso un'occasione. Grazie, Presidente.